ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video come ogni anno anzi forse con un pochino di anticipo quest'anno il canale solo il canale io no andrà in vacanza penso che visto l'andamento nel canale come in ogni periodo estivo che si rispetti sia abbastanza inutile continuare a pubblicare video almeno fino alla seconda metà di agosto ma forse tiriamo avanti anche fino ai primi di settembre vedremo un po non prometto nulla non prometto nulla chi va in vacanza se le goda per chi può mi pensi un pochino magari mi mandi una cartolina io non ci vado quindi è inutile che mi scriviate buone vacanze anzi magari non mettete il coltello nella piaga ok devo fare la tosse la stava trattenendo tutto il video si vedeva quindi dicevo vogliatemi bene non auguratemi buone vacanze perché non ce ne sono piuttosto fatevi rivedere a fine agosto inizio settembre quando ci vedremo